Bentornate e bentornati a tutti! In questo video di oggi voglio farvi vedere tre tecniche diverse per smaltare tre tipi di oggetti diversi e come rifinirli per poi cuocerli. Vediamo come. Allora, il primo metodo che utilizzeremo è con la pinza per smaltatura. Vi lascio nella descrizione del video il link su dove acquistare la pinza e la ricetta di questo smalto rosa. Procediamo, immergiamo completamente l'oggetto e svuotiamo. Giriamo lievemente l'oggetto in modo che non si formino gocce sulle pareti e una volta che è asciutto possiamo poggiarlo. Allora, in questo metodo qui smalteremo questo bicchiere prima dall'interno e poi dall'esterno. Vediamo come. Allora, versiamo lo smalto nel nostro bicchiere fino a raggiungere, fino a quasi raggiungere il bordo, ok? Ruotiamo lievemente per far aderire lo smalto al bordo superiore, risvuotiamo nello smalto e inseriamo il bicchiere fino all'altezza che desideriamo. Lasciamo qualche secondo, portiamo fuori e ruotiamo un poco per far cadere tutte le gocce e piano piano si asciugherà e questo è il risultato finale. Smaltato dentro, smaltato fuori. Questo terzo metodo è utile quando non abbiamo la pinza e quindi smaltiamo l'oggetto una metà per volta. Quindi inseriamo prima una metà, scolliamo, lasciamo che si asciughi un pochino in modo che possiamo toccare la parte già smaltata con le mani senza che lo smalto si attacchi alle nostre mani. Una volta che la prima metà si è asciugata, immergiamo la seconda facendo attenzione a coprire tutte le parti e scoliamo. In questo modo abbiamo smaltato completamente il nostro oggetto. Allora queste sono le tre tecniche che uso maggiormente per smaltare i miei oggetti. Su questi due che abbiamo smaltato completamente chiaramente non possiamo metterli così come sono in forno perché altrimenti lo smalto si attaccherebbe sulla sulla piastra. Quindi possiamo scegliere o se togliere lo smalto dal fondo di per esempio di questo oggetto, vedremo subito come, oppure utilizzare questi oggetti qui che si chiamano zampe di gallina dove noi andiamo a poggiare l'oggetto completamente smaltato su questa zampe di gallina e poggiamo poi l'oggetto così com'è sulla piastra. Dopo la cottura questo oggetto presenterà solo tre piccoli forellini in concomitanza delle punte di metallo. Queste zampe di gallina sono fatte di un metallo resistente alle alte temperature dei forni. Per rimuovere lo smalto dal fondo dell'oggetto iniziamo con una spatolina di ferro e togliamo in questo modo l'eccesso di smalto. Utilizziamo poi una spugna asciutta, cerchiamo di togliere completamente tutto lo smalto dal fondo in questo modo qui e infine con una spugna lievemente umida ci assicuriamo che nessun granello di smalto sia presente sull'oggetto. Nella descrizione qui in basso vi lascio alcuni link utili sugli argomenti che abbiamo trattato in questo video. Spero che vi sia piaciuto, se è così mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione ovvero la ceramica. Alla prossima!